Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha eletto il nuovo presidente a Marco Squarta, eletto in Parlamento Europeo, succede Eleonora Pace. Dichiaro eletta a presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Eleonora Pace. Signora Presidente dell'Aggiunta, Vicepresidenti, colleghi consiglieri, signori assessori, un ringraziamento di cuore all'Assemblea nella sua collegialità, che oggi mi ha accordato questo grande onore, ed un saluto rispettoso a tutti coloro che mi hanno preceduto in questa carica, solo apparentemente onorifica, ma attenza di significati e di responsabilità storiche e politiche. Oggi celebriamo l'insediamento di una presidenza dell'Assemblea Legislativa molto particolare, come sempre a termine, ma evidentemente oggi più a termine di altre. Il lasso di tempo che ci separa dalle elezioni e da un'altra edizione del rito laico che abbiamo celebrato nelle giornate di ieri e oggi è infatti di pochi mesi. Ma ho l'ambizione, che spero sia condivisa da tutti voi, di non far passare intimamente queste settimane che ci separano dalle elezioni. Quello che però possiamo, anzi dobbiamo fare, è riapprovarci di un sentimento di orgoglio identitario, di una forte consapevolezza che quest'Aula rappresenta tutta la nostra comunità regionale, sia nei suoi complessi assetti geografici, sia nei suoi poliedrici gangli economici e sociali. Possiamo in questi mesi rendere consapevole il popolo umbro, con la nostra presenza, il nostro esempio, il nostro orgoglio, di essere state scelti come loro rappresentanti delle grandi sfide che l'aspettano, affinché chi verrà dopo di noi possa con più facilità innestare una profigua e competitiva azione verso orizzonti ambiziosi capaci di far crescere la nostra regione sotto il profilo del progresso e della giustizia sociale. La Commissione regionale d'inchiesta sulla criminalità organizzata e sulle infiltrazioni mafiose, presieduta dal consigliere Eugenio Rondini, ha incontrato il questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, per fare il punto sulla sicurezza. Con la presenza del dottor Lamparelli si chiude il cerchio di ricognizione in materia di sicurezza e infiltrazioni criminali nella nostra regione, ha detto il Presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla criminalità organizzata, Eugenio Rondini, che conta di portare in aula per l'approvazione entro la fine dell'attuale legislatura la proposta di legge sulla sicurezza elaborata dalla Commissione stessa. Il questore ha ribadito la massima attenzione sul versante delle infiltrazioni criminali, confermando un assunto già noto. Non si rileva una criminalità organizzata e endemica di tipo mafioso in Umbria, dove mancano gli appigli di base su cui si fanno forti le organizzazioni come Cosa Nostra, Andrangheta, Camorra. In Umbria, infatti, non attecchisce l'intimidazione e i cittadini non sono omertosi, anzi, in molti casi vanno oltre, denunciano e segnalano. Io direi che le antenne sul fenomeno della criminalità organizzata, sia attraverso la vostra commissione di inchiesta e attraverso il Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica e quindi le Forze dell'Ordine del Prefetto, le antenne verso questo fenomeno sono molto importanti. Sì, come diceva lei, non rileviamo la presenza stanziale della criminalità organizzata endemica, ma ben facciamo, diciamo, a stare attenti e ad evitare che questa terra possa diventare una terra di infiltrazione. Quindi è importante, diciamo, che le antenne, le istituzioni, tutti i soggetti che partecipano a 360 gradi alla sicurezza, siano a loro volta antenne, diciamo, verso il contrasto, diciamo, ad eventuali fenomeni di questo tipo di infiltrazione. La partecipazione del cittadino alla sicurezza è qualcosa di molto importante, che non solo non dobbiamo escludere, non vogliamo escludere, perché a loro volta nei quartieri loro sono sentinelle, diciamo, di legalità. Sono sentinelle di legalità, per fortuna qui non ci sono fenomeni obertosi, non ci sono fenomeni di intimidazione, però ci sono soggetti che ci rivelano e ci comunicano le criticità attraverso comitati, ma anche singolarmente. Quindi, diciamo, noi non solo non sottovalutiamo le loro indicazioni, ma le dediamo a qualcosa di molto importante, perché orientiamo poi, attraverso queste indicazioni, i nostri servizi sul territorio, che cerchiamo sempre di mantenere alti, perché ovviamente il fenomeno della sicurezza, come puoi immaginare, è qualcosa di molto sentito da questa comunità. Il quartiere del capoluogo, che preoccupa di più, rimane quello di Fontivegge. È una situazione che monitoriamo quotidianamente, perché in questi quartieri, come ovviamente ogni giorno possiamo anche notare, la sicurezza percepita, diciamo, spesso è qualcosa di molto significativo. Cioè, bisogna distinguere la sicurezza percepita dalla sicurezza reale, ma ovviamente alcuni fenomeni criminali che vengono rilevati in queste zone, diciamo, abbassano questa sticella, diciamo, della sicurezza percepita del cittadino, per la quale noi abbiamo il dovere, ovviamente, di... che abbiamo il dovere, diciamo, di tenere in considerazione. Sul nostro sito, Polizia di Stato, Questura di Perugia, per le esigenze del cittadino è scritto tutto. Mancano solo i numeri di telefono privati, ma le garantisco che il cittadino che vuole contattare la Polizia di Stato, che vuole contattare il questore, può farlo tranquillamente. È pubblicizzato il numero della segreteria particolare, la mail, c'è tutto. E noi rispondiamo spesso ai cittadini che ci segnalano qualche cosa, anche semplicemente un disagio. Abbiamo il dovere, come forza dell'ordine e come istituzione, di dare sempre una risposta, anche quando non è di nostra competenza. Il cittadino deve essere sempre ricevuto. I nostri uffici sono sempre aperti sulle 24 ore e, anche se non siamo competenti, lo riceviamo e gli diciamo, nei limiti del possibile, cosa si può fare. È un incontro importantissimo oggi. Si chiude un ciclo di incontri per migliorare, per integrare la nostra proposta di legge che abbiamo ereditato dalla scorsa legislatura, ma che in questo momento siamo riusciti appunto a modificarla, ad aggiornarla. E grazie a questi incontri fondamentali con gli esperti del settore andiamo a proporre una legge, credo, importante per la nostra regione, una legge che è antesignana rispetto a molti argomenti. Mi viene in mente il discorso degli immobili confiscati, oppure il rating di legalità, o anche il protocollo, il primo in Italia, di libere di essere. Quindi un momento fondamentale con il questore di Perugia, è un momento importantissimo di confronto, è un onore per la Commissione e credo che potremmo veramente dare ai Umbri una proposta importante, ma anche concreta. E non era scontata la cosa. Un ringraziamento fondamentale ovviamente va non solo ai membri della Commissione, ma anche all'osservatorio antimafia che collabora con il nostro organo. L'osservatorio antimafia regionale che è composto dalle associazioni categoria, dai sindacati più importanti, ma soprattutto dalle associazioni antimafia. E fra queste vorrei annoverare il Libera, che con il suo presidente Walter Cardinali ci ha dato una grossissima mano per ridigere questo importantissimo lavoro. Comunità energetiche e enti locali, transizione ecologica, dinamiche della partecipazione. A Palazzo Cesaroni si è svolto un convegno organizzato dall'Assemblea legislativa dell'Umbria, l'Università di Perugia e il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali. Il tema della transizione ecologica va affrontato con responsabilità e consapevolezza. Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano una nuova forma di produzione dell'energia, che valorizza particolarmente le reti di cittadini e soprattutto è uno strumento che mira a sostituire le forme tradizionali con cui viene prodotta energia. Sono un modello, le CER, interessante per molte ragioni e quindi anche in Umbria devono trovare spazio per uno sviluppo importante e significativo. Sono alcune considerazioni emerse nel corso del convegno organizzato a Palazzo Cesaroni dall'Assemblea legislativa dell'Umbria, dall'Università di Perugia e dal Consiglio delle Autonomie Locali sul tema comunità energetiche ed antilocali, transizione ecologica e dinamiche della partecipazione. L'iniziativa rientra in un più ampio progetto concernente le dinamiche partecipative e politiche pubbliche L'Umbria per l'Europa. Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Oggi è un'importante giornata in cui continuiamo un percorso di partecipazione, di confronto. Ringraziamo il Dipartimento di Jurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia per la collaborazione che sta portando avanti su vari argomenti con l'Assemblea legislativa dell'Umbria e su questo fronte, su questo argomento che affrontiamo oggi sicuramente c'è bisogno di una riflessione importante da parte di tutti i stakeholder del territorio. Abbiamo di fronte una grande sfida che è quella di consolidare sempre di più quelli che sono dei percorsi affinché si possano favorire, agevolare, incentivare le comunità energetiche, i gruppi di autoconsumatori di energie rinnovabili per garantire quello che è un percorso di sostenibilità. Abbiamo visto purtroppo come in questi ultimi anni da un lato la pandemia ma poi anche purtroppo l'emergenza umanitaria perché in primis è veramente un'emergenza umanitaria data dal conflitto con la lusso ucraino ha portato chiaramente e ha messo in evidenza quanto e come sia necessario puntare su quelle che sono un'indipendenza energetica ma anche e soprattutto riuscire a far fronte a quella che è la povertà energetica che ancora esiste da parte di tante famiglie e da parte anche di tante attività perché i costi energetici ci hanno inciso in maniera importante sia su quello che è lo sviluppo economico sia su quello che è lo sviluppo sociale del nostro territorio il nostro territorio intendo l'Umbria ma come tutta la nazione e chiaramente questo intervento legislativo che è stato convintamente portato avanti dall'Assemblea Legislativa in maniera bipartisan intende promuovere, sostenere e implementare proprio questa opportunità nel nostro territorio un'opportunità importante su cui occorre veramente l'interesse e soprattutto la conoscenza e la consapevolezza di tutti i saluti dell'Ateneo Perugino li ha portati Andrea Sassi direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università che ha sottolineato il positivo rapporto tra Università e Assemblea Legislativa è importante approfondire questo tipo di tematica anche con i giovani, ha detto impegnandosi nella proposta di una cattedra per la sostenibilità dell'ambiente questi argomenti devono penetrare ha sottolineato nel percorso degli studi si tratta di una riforma indirizzata su temi con rilevanza anche sociale A rimarcare il positivo e proficuo rapporto tra Università e Assemblea Legislativa il professore Giorgio Repetto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università L'incontro di oggi è una occasione per riflettere a livello trasversale tra Università, Assemblea Legislativa e autonomie locali, enti locali su questo nuovo strumento che è stato introdotto negli ultimi anni per effetto della disciplina provenante dall'Unione Europea che sono le comunità energetiche le comunità energetiche sono una nuova forma di produzione dell'energia che valorizza molto più che in passato le reti di cittadini quindi le iniziative che possono venire dalla società nelle sue varie articolazioni e soprattutto è uno strumento che mira a sostituire le forme tradizionali in cui appunto la produzione di energia l'energia proviene da un unico soggetto produttore e poi si distribuisce nel territorio con una forma invece di produzione dell'energia dal basso parliamo di produzione di energia rinnovabile quindi con un significativo impatto anche sulla transizione climatica e ambientale è una forma di produzione che coinvolge direttamente i cittadini si tratta sostanzialmente di forme di autoproduzione in cui reti di cittadini di associazioni e di autonomie locali si accordano per creare al proprio interno delle forme appunto di autoproduzione quindi tramite eolico o solare o tutte le forme diciamo in cui è possibile oggi produrre energia da fonti rinnovabili con l'idea innanzitutto di autoconsumo e quindi di eliminare quelli che sono i costi di produzione e di consumo ma anche con l'idea, e questo è molto significativo, di immettere nella rete l'energia così prodotta quindi si produce anche un significativo miglioramento non solo della qualità dell'ambiente ma anche degli effetti sociali ed economici l'elemento importante da sottovalutare è che negli ultimi anni anche e soprattutto nell'ambito del PNRR ci sono significativi strumenti di incentivazione che provengono innanzitutto ovviamente dal Ministero ma il ruolo significativo in questo ambito è giocato anche dalle regioni perché molte regioni hanno adottato delle leggi che concorrono nel promuovere, nel finanziare queste iniziative e da ultimo anche la Regione Umbria con una legge del maggio scorso ha disciplinato questa materia e quindi ci è sembrato un momento utile per fare una riflessione con i sindaci del territorio, con gli amministratori locali del territorio per metterli a corrente di questi nuovi strumenti e di queste forme di incentivazione Tra gli interventi introduttivi ai lavori quelli dei due promotori della legge regionale per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili Daniele Carissimi della Lega e Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle Oggi è una prima di tante occasioni che finalmente dà le gambe a una legge regionale su cui abbiamo molto lavorato che consente finalmente anche alla nostra Regione di avere uno strumento per incentivare e per promuovere le comunità energetiche rinnovabili Queste comunità energetiche rinnovabili consentiranno agli Umbri di avere innanzitutto un risparmio perché comunque sia le loro bollette saranno chiaramente più leggere in ragione del fatto che la produzione di queste energie sarà appunto da fonti rinnovabili il che crea molti vantaggi tra i quali chiaramente anche il coinvolgimento delle comunità locali nella misura in cui ovviamente sia gli enti locali sia le cooperative, sia le associazioni sia le proloco, sia le diocesi, le parrocchie potranno diventare parte della produzione di energia che potranno chiaramente utilizzare anche per se stesse in termini di autoconsumo e non bisogna però nascondere comunque sia trascurare anche i potenziali svantaggi o comunque sia ostacoli che questa normativa può portare perché chiaramente il problema della burocrazia il problema della compatibilità con le normative che soprattutto legano e imbrigliano gli enti locali potrebbe determinare dei ritardi e degli ostacoli che chiaramente in questo momento non sono accetti però sicuramente è uno strumento sociale uno strumento utile a creare quella comunità non solo energetica ma comunità di fatto ma credo che questo sia un esempio di buona politica quando non lasciamo spazi vuoti quando riusciamo a trovare al di là delle differenze risposte per i cittadini questo diventa un modello virtuoso a livello regionale questa legge permetterà finalmente di mettere in condizione anche chi non ha gli strumenti economici ma anche culturali per poter riuscire a costituire una comunità energetica di poterlo fare nel modo più facile possibile quindi abbiamo costruito uno strumento legislativo che darà alla giunta regionale la possibilità di realizzare attività di tutoraggio quindi di semplificazione di accompagnamento per tutti quei soggetti che possono essere semplici cittadini ma anche imprese, prologo, diocesi, associazioni che decidono di mettersi insieme quindi come il termine è prosumer produttori e consumatori di energia e di condividere quindi l'energia questo è un nuovo paradigma è un nuovo paradigma che cambia ovviamente l'idea di energia da una concentrazione su grandi impianti a invece una produzione diffusa che quindi permette di poter anche creare quello che chiamiamo democrazia energetica ovvero quindi diffondere quello che è uno degli asset principali di controllo sui beni comuni perché anche l'energia infatti è un bene comune ovviamente questo non nasce nel nulla nasce da un percorso che in questa legislatura e devo dire partendo dall'assemblea ha inserito il tema della crisi climatica la transizione ecologica e ovviamente anche della sostenibilità ambientale all'interno dei nostri principi fondanti poi anche traducendolo in iniziative legislative sulla situazione delle comunità energetiche rinnovabili in Umbria ha parlato Ugo Carlone della segreteria generale dell'assemblea legislativa che ha riportato i dati emersi da una sua indagine con interviste a soggetti impegnati nel settore noi abbiamo condotto una rilevazione sulle comunità energetiche rinnovabili in Umbria e abbiamo visto che è un fenomeno molto in espansione seppure agli inizi siamo in una fase embrionale almeno nella nostra regione però le realtà a sorte sono parecchie molto interessanti c'è chi ha costituito la cooperativa c'è chi ha costituito la società c'è chi sta soltanto ideando e progettando il da farsi però questo tema delle comunità energetiche è sempre più interessante perché permette di poter arrivare a un minor consumo energetico e allo stesso tempo creare comunità e rete tra i cittadini e quindi è un intervento che sicuramente avrà uno sviluppo nella nostra regione e nel nostro paese sono intervenuti con dettagliate relazioni Giorgio Repetto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia Luca Marchi, Enel X Silvia Vivarelli, Cinea, Commissione Europea Michele Cenci, del Servizio Energia della Regione Umbria Luca Santilli, sindaco di Gagliano Aterno, provincia dell'Aquila Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi Ugo Carlone, dell'Assemblea Legislativa Nello spazio riservato ad interlocuzioni con i comuni e gli stakeholders hanno preso la parola Maurizio Zara, di Legambiente Umbria Valentino Filippetti, sindaco di Parrano Riccardo Fanò, Aris Francesco Fabianelli, con Fabi Terni Adriano Rossi, ingegnere Luciano Zepparelli, Tecne SRL Giorgio Maurini, Cer Narni Le conclusioni del convegno sono state riservate all'assessore all'ambiente e vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni Le comunità energetiche rinnovabili, ha detto sono da tempo alla nostra attenzione Beh sì, le CER sono da tempo al centro della nostra attenzione riteniamo che esse rappresentino un modello interessante per tutta una serie di ragioni e quindi crediamo che l'Umbria possa e debba essere un terreno dove queste comunità energetiche rinnovabili possono trovare uno spazio per uno sviluppo importante e significativo in questa ottica abbiamo nei mesi scorsi sviluppato con la collaborazione del Lanci e tutta una serie di incontri con gli enti locali i comuni della nostra regione proprio per consentire un livello di informazione adeguato compatibile anche con quello che era un quadro normativo ancora in evoluzione in quel momento ma proprio per accendere i riflettori e sintonizzarci su questa grande opportunità noi abbiamo fatto uscire recentemente anche un bando sarà pubblicato di qui a poco lo abbiamo varato come giunta regionale nelle scorse settimane che proprio darà ai comuni l'opportunità di lavorare per un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e anche la possibilità di mettere poi a disposizione questi impianti per la costituzione di SHER intravediamo un ruolo da protagonisti degli enti locali nel favorire lo sviluppo di questo modello organizzativo anche in considerazione di quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio la presenza di piccoli comuni e quindi ci auguriamo che questo processo possa mettersi in moto con una intensità e una diffusione importanti La terza commissione consigliare di Palazzo Cesaroni ha approvato le modifiche al testo unico Sanità e Servizi Sociali che vertono tutti su aiuti alle famiglie nota anche come legge per le famiglie Ce ne parla la prima firmataria di questo atto Paola Fioroni Partiamo da un assunto fondamentale quello per cui la famiglia è sicuramente un volano importante di sviluppo economico e sociale Riteniamo che la famiglia debba essere messa al centro dell'attenzione dell'agenda politica delle amministrazioni e con questa legge abbiamo apportato numerose novità ma anche e soprattutto abbiamo reso strutturali e questa è la cosa fondamentale le misure che fino ad ora la Regione aveva messo in campo Ricordiamo che la Regione ha stanziato più di 30 milioni di risorse pubbliche per il sostegno alla famiglia nell'ambito del sostegno per il bonus alle neomammere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per agevolare anche quello che è l'occupazione femminile e la possibile scelta tra essere madri e essere lavoratrici perché le donne non devono essere messe nella condizione obbligatoria di scegliere necessariamente una carriera lavorativa piuttosto che essere madri ma deve essere armonizzata la possibilità di conciliare entrambi gli aspetti e le dimensioni di vita Abbiamo reso strutturali anche le borse di studio perché il diritto al studio è un elemento essenziale fondamentale che dobbiamo garantire per evitare la dispersione scolastica e per formare e dare strumenti ai nostri giovani e alle famiglie e ancora anche per sbloccare l'ascensore sociale che purtroppo è ormai fermo da troppo tempo e ancora abbiamo reso strutturali anche i contributi alle attività che sono importanti per i nostri giovani come le attività sportive, ricreative e quant'altro stiamo pensando la famiglia in ogni dimensione del suo progetto di vita convinti che per contrastare l'inverno demografico e una denatalità che anche oggi ci riportano i dati dell'AUR comunque preoccupante in Umbria bisogna agire in maniera multidimensionale bisogna agire nell'ambito dell'occupazione e del lavoro e quindi sempre di più potrebbero essere politiche che possano assicurare ai nostri giovani formazione e lavoro sul nostro territorio ma nello stesso tempo dobbiamo creare una regione a misura di famiglia e per questo abbiamo voluto con questa legge indicare la creazione di un dipartimento per le politiche familiari che possa essere il luogo in cui concertare il luogo in cui confrontarsi con un elemento essenziale del nostro tessuto socio-economico che è l'associazionismo familiare che per tanto tempo si è preso in carico quella che è l'attenzione e la cura della famiglia noi siamo convinti che questa sia una legge che va ad incidere sia sull'aspetto della natalità, della libertà educativa dei genitori sul sostegno alla genitorialità responsabile il sostegno a tutti i tipi di famiglie intesi come famiglie per esempio separate, divorziate, monoparentali perché esistono diversi tipi di famiglie che necessitano famiglie numerose che necessitano il sostegno in base alla composizione anche della famiglia stessa per questa edizione è tutto vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche dell'Umbria è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su Youtube grazie per la vostra attenzione arrivederci grazie per la visione